Ciao Sagittario, bentornato. Oggi è domenica, 29 settembre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Oroscopo Sagittario. Domenica Super, tutto per voi. L'amore vi sorride, l'avventura vi intriga, il lavoro procede, la salute brilla. Non rimane che ricordarvi il dovere della gratitudine, molto sentita tra samurai e cavalieri del vostro calibro. Un amore termina, una coppia si divide, un matrimonio o una convivenza fallisce, due i coniugi si separano. Amicizie e rapporti che terminano improvvisamente e in modo definitivo. Errori imperdonabili nella coppia, rotture e litigi definitivi e irreversibili. Può indicare anche dolore e depressione per un amore che finisce. Pene d'amore quasi al termine, per i nati di lunedì potrebbero trovare soluzione oggi stesso a patto però che non iniziate con le solite recriminazioni per certi versi assurde. Un'amica non proprio sincera potrebbe distorcere la realtà per causare problemi nel vostro rapporto. Fate attenzione. Oggi il vostro cuore batterà per qualche storia vecchia, ogni tanto risfogliate l'album dei ricordi e tornate con la mente a quello che fu. Risvegliatevi presto, la realtà vi aspetta. Ampio influsso positivo di Giove che con Venere renderà, soprattutto in amore, piacevolissima la giornata. I nati di Giovedi potranno contare su una straordinaria serata. Siate più cordiali e cercate di costruire con il vostro partner un rapporto nuovo, in fondo cercate in due la stessa cosa. Non potete passare il vostro tempo a piangere sul latte versato e sulle spalle degli amici. Ridestatevi e cercate di strineggiare nuove amicizie e di vivere una vita diversa. La gelosia potrà farti commettere un brutto errore. Fai attenzione. Non essere pessimista e neanche troppo serio. Evita le persone tristi. Oggi siete generosi o vi sentite tali, pensate di portare un dono alle persone più sfortunate di voi, o perlomeno di aiutarle in qualche modo. Amiri coloro che sono saggi ma non ti ritieni tale. Fare affidamento sulla propria individualità è fondamentale per il tuo sviluppo. In caso contrario, anche la creatività più imitativa finisce per atrofizzarsi. Molti pianeti vi sono amici, Mercurio, Plutone, Venere e un radioso sole, ravvivando il vostro spirito, specie se siete nati nella prima e terza decade del Sagittario. Si sta per concludere questo bel settembre con ottime speranze future che la giornata odierna conferma. Il vostro astro guida Giove all'opposizione promette una vita sociale intensa, anche se non sempre facile come avreste supposto. Di buono c'è chi a vostro favore lavora la luna e il leone, segno di fuoco intrigono al vostro e guarda caso nel settore dei viaggi. Amore ed Eros Se col partner non convivete ancora e magari lavorate in due città diverse, il weekend è il momento della riunione di cuori, bello ritrovarsi e trascorrere 48 ore abbracciati occhi negli occhi. L'innamoramento vi accende di allegria e di entusiasmo, bello condividere con l'amato principi e ideali, interessi culturali, visuale politica, passioni e stili di vita compatibili, ora che avete trovato la persona tagliata su misura per voi non ve la lascerete scappare. La luna e il leone vi rende vivaci, attraenti, brillanti in società, l'ideale se volete conquistare qualcuno o se nei vostri piani c'è proprio fisicamente una persona che avete già conosciuto e dovete avvicinare. Se siete nati in dicembre preparatevi a un momento di sorprese sentimentali che il pianeta delle emozioni vi regala. Chi è sagittario della seconda decade? Pur con Saturno negativo, si spinge a godere di piccanti successi erotici e fugaci avventure che, se seppur magari senza grande importanza, riescono a tenere alto il morale. I single di tutte e tre le decadi del senno sono stimolati a provare il loro gusto per l'avventura. Lavoro e denaro Weekend splendido e interessante in luoghi d'arte e di cultura, a differenza degli altri che lo vivono come una parentesi di piacere, viaggiare per voi è vita, insegnamento, evoluzione interiore, tanto che il vostro sogno è trasformarlo in un'attività professionale. Fortuna nelle questioni legali, scampate in corner una multa, oppure con mente sveglia e occhio lungimirante e sventate una truffa o un furto a vostro danno. Sarà il malvivente stavolta vedere i sorci verdi. Nettuno in pesci è la forza celeste che vi continua a remare contro e non vi dà la possibilità di sentirvi completamente soddisfatti a livello professionale. Se appartenete alla terza decade e svolgete un'attività indipendente, non date eccessivo peso a quel che accade in questa giornata. Sospendete ogni forma di giudizio, tutto si chiarirà meglio in seguito. Benessere Questo fine settimana, sia in viaggio, sia utilizzato come parentesi introspettiva, si sta rivelando una manna dal cielo. Lunghe camminate, a contatto con la storia, la natura e soprattutto con voi stessi con i vostri segreti, con le vostre paure inespresse. Denaro Abbastanza tradizionalisti e conservatori, se non appartenete al tipo sagittario idealista, illuminato, siete capitalisti al massimo e date ai soldi un valore notevole. Malgrado la bonarietà del vostro segno, siete dei voraci accumulatori di denaro. Per lei, sul lavoro svolto dalle donne in casa, dalle lavatrici, allo stiro, fino ai fornelli, si soffermano in pochi a pensare, ma il vostro lui che vi ama tanto lo capisce, apprezza e vi dà una mano. Coppia affiatatissima e complice, oggetto di invidia da parte degli altri. Per lui, atleti voi, atletici anche i vostri figli, che avete educato ai valori autentici, ottimismo, libertà, giustizia prendono la vita sportivamente ogni giorno, bravi, ma bravi anche voi. Colore delle emozioni, rosa corallo. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 8, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.